Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Oggi vediamo come preparare una torta facilissima e davvero golosa, la Napolitan Cake. Si tratta di una torta gelato formata da tre gusti che si sposano alla perfezione insieme, vaniglia, fragola e cioccolato con una base goduriosa al brownie. La storia di questo dolce risale alla seconda metà dell'Ottocento, quando moltissimi napoletani emigrarono dall'Italia verso il continente americano. Qui, tra le tantissime pietanze più amate, oltre alla pasta, la pizza e la mozzarella, ci fu proprio anche il gelato. E una variante molto particolare, nata nel 1870, spopolò in America. Questa variante era lo spumone, fatta o con la frutta congelata oppure con il ghiaccio, e la consistenza è davvero morbida e vellutata. Da qui si iniziarono a diffondere tre gusti, un po' per richiamare il tricolore italiano, ma successivamente, a richiesta del popolo americano, i tre gusti diventarono cioccolato, vaniglia e fragola, conosciuti ancora oggi. Dall'idea degli spumoni tricolori, nacque proprio la Napolitan Cake, una torta napoletana fatta con tre spumoni, appunto la fragola, vaniglia e cioccolato, con una deliziosa base di brownie. È una torta golosa ed estiva, e oggi vi proponiamo la nostra versione. Iniziamo la ricetta mettendo in una ciotola 750 ml di panna fresca e la montiamo finché raggiunge questa bella consistenza, morbida e ariosa. Poi aggiungiamo 250 g di latte condensato, i semi di una bacca di vaniglia e diamo una bella mescolata con un frustino. Dividiamo il composto in tre parti, una da 400 g e due da 300 g. Per il gelato al cioccolato prendiamo una ciotola da 300 g e aggiungiamo 100 g di cioccolato fuso, che amalgamiamo delicatamente al composto. Poi mettiamo 10 g di cacao amaro, che mescoliamo bene. Mettiamo in frigo fino al bisogno. Per il gelato alla fragola, in una ciotola mettiamo 150 g di fragole e le frulliamo finché diventeranno una bella purea omogenea. Versiamo la purea nell'altra ciotola da 300 g e mescoliamo delicatamente. Per donare un colore più acceso, aggiungiamo una goccia di colorante alimentare rosso e mescoliamo per bene. Ora mettiamo in frigo questo gusto e anche quello da 400 g. Siamo arrivati all'assemblaggio. Su un piatto da portata mettiamo una base di brownie di 18 cm di diametro. Mettiamo un anello di 18 cm di diametro sopra. Aggiungiamo l'acetato intorno e dove si chiude lo assicuriamo con un pochino di burro. Chiudiamo l'anello e aggiungiamo il gelato al cioccolato. Livelliamo per bene con una marisa e mettiamo in freezer per 3 ore o finché la consistenza sarà bella dura. Tiriamo fuori dal freezer e aggiungiamo il gelato alla vaniglia nella ciotola da 400 g. Livelliamo per bene e mettiamo in freezer finché sarà bello solido. Tiriamo per l'ultima volta fuori dal freezer e aggiungiamo il gelato alla fragola. Livelliamo per bene e mettiamo in freezer per tutta la notte. Il giorno seguente togliamo l'anello e l'acetato e decoriamo con qualche fragola fresca in superficie. Ammirate che meravigliosa torta siamo riusciti a creare! Davvero spettacolare! Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito sia l'assaggio e adesso gustiamo questa meravigliosa napolitan cake! יבlliamo! Quale è il gusto alla fragola? Cosa posso dirvi? È paradisiaca In bocca si sente un'esplosione di gusto Fragola, panna e cioccolato sono tre gusti che si sposano alla perfezione insieme E i gelati sono fatti a regola d'arte Sono leggeri, spumosi e dolci al punto giusto Infine la base di brownie va a completare il dolce Rendendolo spettacolare Insomma è una torta deliziosa, assolutamente da provare Ok amici, il nostro video si conclude qui Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace Non costa nulla ma a noi può fare la differenza Ci vediamo nel prossimo video